Ciao ragazzi, eccoci qui con la seconda puntata della Shock Review Oggi voglio parlarvi di alcune matite che sicuramente tutte conoscerete e si tratta delle Long Lasting Eye Pencil di Essence come vedete io ne ho davvero più di qualcuna e avendole più di qualcuna riesco sicuramente a farmi una recensione un pochino più accurata posso dirvi che io le adoro sono tra le matite che mi iscrivono di più soprattutto nella rima interna e mi piacciono tantissimo perché tutte hanno la mina automatica e quindi come vedete è molto piccolina e di precisione anche per fare delle righe di eyeliner sono tutte come ora vi farò vedere pigmentatissime durano davvero tantissimo quindi Long Lasting assolutamente sì nel senso durano tanto anzi vi dirò se dovessi trovare un difetto è che alcune specialmente sono difficili da struccare anche i colori più chiari che ne ho diciamo 2-3 e che di solito di altre marche scrivono sì ma tendono a durare molto meno e di queste durano assolutamente di più vi lascio anche l'inci qui al mio fianco che ovviamente ancora non l'ho visto vi dico ma già so che sarà insomma niente di buono perché stiamo parlando della essence comunque quindi non mi stupirei comunque io ve lo lascio qui sono tra l'altro delle matite molto molto economiche perché vengono intorno a... forse non arrivano nemmeno 2,50€ se non ricordo male in questo video non vedrete video di mostrativi perché insomma si tratta di una semplicissima matita occhi quindi non ritenevo opportuno fare un mini video iniziamo subito con gli swatch la prima matita tra l'altro proprio fra le mie preferite è la 01 Black Fever è un nero molto molto intenso sono morbidissime quindi sia nella riva interna appunto che sull'occhio non danno assolutamente fastidio e questo è un classico nero intenso opaco altra matita diciamo molto classica è la 02 Hot Chocolate questa come vedete ha un tratto molto definito ed è marrone opaca la 15 non so se lo leggete si chiama Bling Bling ed è un colore assolutamente carinissimo è un dorato con una punta di ocra all'interno cioè non è un dorato molto brillante e questa come vedete è satinata abbiamo poi fra le mie preferite in assoluto la 05 la 05 la 05 la 05 la 05 e ad esempio ed è molto simile a Corona di Neve Cosmetics nonostante ciò dura davvero tanto guardate quanto è brillante è bellissima e questa io la utilizzo tantissimo soprattutto come punto luce e poi la 17 che si chiama Tutu Turquoise questi nomi un po' particolari che è questo bellissimo azzurro cielo completamente opaco ho poi la 07 Easy Going che anche questa io la adoro è questo verde acqua molto molto bella leggermente satinata luminosa ma non ha glitter all'interno e infine una di quelle anche più durature la 12 I have a green che è questo verdone qui e come vedete questa ha dei micro glitter all'interno quindi come vedete sono tutte assolutamente molto molto scriventi sono morbidissime e sono super super valide e poi super low cost che non è assolutamente da meno come cosa come sapete questa è Essence quindi la potete reperire nei O.I.S. nei Coin in alcuni scarpe scarpe e per me sono dei prodotti assolutamente promossi spero che questa mini review vi sia piaciuta e vi sia stata utile io vi mando un bacione e ci vediamo alla prossima ciao ciao